La sperimentazione di un sabato al mese non basta, il mercato di Lecco deve tornare sempre in centro e perentoria la richiesta di appello per Lecco all'amministrazione comunale del capoluogo anche alla luce delle prime fortunate sperimentazioni. Oggi gli ambulanti hanno bisogno di certezze, gli utenti hanno bisogno di certezze, il rischio è di creare un caos dove l'utenza non sappia più neanche dove si trova il mercato se lo facciamo girare da un punto all'altro, bisogna essere consapevoli che il mercato deve avere un luogo fisso e noi avevamo presentato un progetto di mi sembra 60 bancarelle il mercoledì e 90 il sabato nelle piazze Mazzini, Garibaldi e Piazza degli Affari con un pezzo di via Nazario Sauro coinvolto al sabato. Quindi per un mercato di qualità esteticamente ovviamente rivisitato e con tutti i soggetti che devono pagare la tassa del suolo pubblico e che siano diciamo così in regola con i regolamenti dell'istituzione comunale. Anche perché non abbiamo acquistato l'ex area della piccola per fare il mercato ma abbiamo creato le predisposizioni e i sottoservizi necessari in piazza Mazzini, in piazza Affari proprio per far tornare nelle piazze centrali di Lecco il mercato. Lì è il suo luogo deputato. Mi sembra che la sperimentazione stia dando buoni frutti sia per i riscontri degli utenti, degli ambulanti, dei cittadini. Quindi mi auguro veramente che l'amministrazione comunale faccia uno sforzo in più e riposizioni il mercato in centro andando a valorizzare diversamente l'area dell'ex piccola.